Controlli e perquisizioni a tappeto nel palazzone ex onpi di corso del mezzogiorno a Foggia da parte del comando provinciale dei carabinieri di Foggia con l'ausilio dello squadrone eliportato dei cacciatori di Puglia e di unità cinofile antidroga e anti esplosivo. Nel corso delle operazioni con numerose perquisizioni domiciliari e negli scantinati del palazzo sono stati rinvenuti un kit rapina pronto all'uso, due pistole, due passamontagna, abiti scuri e munizioni calibro 9 e calibro 12 tutte occultate nella controsoffittura dei corridoi vicino agli ingressi principali del palazzo. Sempre nelle controsoffittature ma in altri punti sono stati rinvenuti anche 100 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana con diversi bilancini di precisione. I carabinieri cacciatori hanno provveduto anche ad estirpare cinque piantine di marijuana dal giardinetto del palazzo. Nel corso di una perquisizione un sorvegliato speciale foggiano con obbligo di soggiorno che mostrava segni di agitazione sin dall'inizio delle operazioni è stato trovato in possesso di una pistola lanciarazzi e di una modesta quantità di hashish, motivo per il quale è stato tratto in arresto per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.